Dal sacchè di riso Carnaroli ai dossi stradali che producono energia, sono cinque i vincitori di Univenture, il progetto di università, comune e polo tecnologico di Pavia, che stimola la crescita di imprese innovative. Le cinque start-up sono state selezionate tra le oltre cento candidature pervenute, hanno affrontato la fiera delle idee dove hanno costruito il team di progetto insieme ad oltre 60 studenti internazionali della laurea magistrale MIBE dell'università e hanno proseguito con un percorso di accelerazione accompagnati dal team Univenture e dai 12 mentor, scelti per aiutarli a sviluppare la loro impresa. Il comune di Pavia ha messo a disposizione 10.000 euro per il primo classificato, 5.000 euro per il secondo e il terzo, mentre al quarto e al quinto sono andati 2.500 euro, da utilizzare per un Silicon Valley Study Tour, un viaggio nel cuore della Silicon Valley, per incontrare e studiare come nascono le start-up più innovative negli Stati Uniti. I vincitori dell'edizione 2019 di Univenture sono i ragazzi della start-up Riso Sake, che hanno realizzato il primo sake di riso Carnaroli e che creano anche prodotti per il corpo derivanti proprio dal riso. Secondo e terzo posto per le start-up che hanno ideato etichette smart per gli alimenti e dossi stradali che producono energia dalle moto e dalle auto. Il quarto e quinto premio sono andati invece a due start-up che hanno realizzato rispettivamente un sistema per l'assistenza degli anziani a distanza e una piattaforma per l'analisi cinetica delle reti metaboliche su scala genomica.